Violento scontro ieri sera sulla strada che collega Polla con Caggiano, la strada statale 19 Terre, nei pressi dell'incrocio in località Cangito-Campostrino, coinvolti una Fiat Punto ed un furgone. La violenza dello scontro ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno aiutato la persona a bordo dell'utilitaria ad uscire dalle lamiere contorte. Sul posto il personale del 118 che ha provveduto a trasportare i due feriti all'ospedale Luigi Curto di Polla. Uno dei due ha riportato seri traumi agli arti inferiori. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per ricostruire la dinamica del sinistro provocato molto probabilmente dal manto stradale reso viscito dalle forti precipitazioni. Ricordiamo che si tratta di un incrocio purtroppo già noto per diversi incidenti stradali, alcuni dei quali particolarmente gravi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti.